Marino Guerra, coordinatore provinciale delle guardie zoofile dell'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ha incontrato i candidati sindaci e consiglieri regionali per proporre la modifica di legge che viene riproposta da tantissimi anni per combattere anche l'abbandono dei gatti, che è reato previsto dal codice penale come l'abbandono di qualsiasi altro animale, e per fermare il randagismo, rendendo il microchip obbligatorio anche per i felini. Inoltre è stato richiesto di istituire un ufficio di tutela animale in tutti i comuni della provincia, con l'invito ad istituirli ovunque, con la redazione di un regolamento per il benessere animale. Fare rete con tutti i vari comuni della provincia per fare pressione sulla regione, per modificare la legge 10 del 97, la legge regionale, perché vogliamo che venga inserito un articolo che renda obbligatorio per tutti i gatti di proprietà e non la registrazione, l'anagrafe felina, e la cippatura di ogni gatto, esattamente come sta già succedendo in regione Lombardia. Questo per andare a combattere il randagismo felino, perché come ben sapete abbandonare dei gatti è reato, è previsto e punito dall'articolo 727 del codice penale e noi vogliamo andare a sconfiggere questo brutto reato. Grazie al microchip è possibile risalire chi è il proprietario e quindi ridurre gli abbandoni e ridurre anche il costo a carico della comunità. E chiediamo inoltre a tutti i comuni di mettersi in regola con questa legge 10 del 97, creando o mettendosi in convenzione per la gestione dei gattili e delle osi feline. Molti comuni non ce l'hanno. Abbiamo bisogno di sensibilizzare la nostra cittadinanza e i nostri politici a questo argomento, al benessere degli animali. OIPA si occupa del benessere di tanti animali grazie ai volontari che sono chiamati Angeli Blu, che spesso si ritrovano a dover sostenere personalmente grosse spese, per esempio veterinarie. Per aiutarli è possibile fare delle donazioni ai riferimenti in sovraimpressione. Per diventare volontari delle guardie zoofile OIPA, inviare una email all'indirizzo di posta elettronica in evidenza.